3-0 abbastanza facile per l'Italia contro la Bulgaria 25-17, 25-19, 25-23 per le azzurre di Mazzanti trascinate da Silvia Noacalor 18 punti, dalla capitana Miriam Silla 10 e soprattutto Francesca dall'atteggiamento giusto nei pochi momenti di difficoltà che ci sono stati all'interno del match. Ma assolutamente sì, ci sono stati pochissimi momenti di difficoltà per l'Italia però l'Italia è riuscita a fare il suo gioco con carattere in vista poi della partita di domani contro la Repubblica Domenicana. Eh sì, comunque tre punti che regalano morale ed entusiasmo perché insomma arrivavamo da una sola vittoria in quattro partite e vincere aiuta a vincere. Assolutamente sì, quindi lo spirito sarà migliore e scenderanno sicuramente in campo ancora più agguerrite domani. Per Sky Sport 24 Roberto Prini e Francesca Piccinini.